del nostro partito in terra di Puglia, voglio dire una cosa, donne e uomini che siano, noi vogliamo che a scegliere siano i cittadini, noi vogliamo evitare che in Parlamento ci si vada per la compiacenza più o meno elevata che si ha con un leader politico, noi abbiamo fatto una battaglia per restituire lo scettro ai cittadini italiani, sono loro a scegliere i parlamentari, debbono sceglierli anche per il Parlamento nazionale, questa è la grande rivoluzione, io mi sono permesso di dire votate demite sansa, ma so che è vostro questo atto di libertà, che è il momento più sacro della vita pubblica, per cui le corsie preferenziali per uomini o per donne non ci interessano, noi siamo per la vera corsia preferenziale che è quello dei cittadini. Abbiamo parlato di autonomie locali, Cireaco ci ha detto delle autonomie locali, del fatto che questa campagna è molto intrecciata sul tema delle autonomie locali, io vorrei presentare il nostro sindaco Libutti, invito a venire qui. Grazie a tutti! Grazie a tutti!